Roberta Gemma, quando gli uomini ti guardano nei tuoi film, nei tuoi spettacoli, tu ti senti come un extraterrestre venuto per portare la pace universale o no? Beh la pace no, però portare qualcosa sicuramente Il fatto che tu, tu sei mai stata rapita dagli UFO? Guarda, dagli UFO ancora per fortuna no, però io sono un'attrice art e mi è successo che in un set mi è arrivato un uomo con un proprio oggetto un po' esagerato diciamo Quindi penso che a questo punto sia anche lui un extraterrestre Scusa, adesso io non voglio parlare di oggetti esagerati perché non mi sembra il caso Comunque tu non sei mai stata rapita dagli UFO? No No, quindi possiamo dire in tutta onestà che gli UFO se non t'hanno mai rapito evidentemente sono gay Scusa, oppure non mi hanno ancora notato, perché non mi conoscono bene Roberta Gemma ringraziamo per questa bellissima testimonianza Quindi c'è già un primo dato del partito delle libertà